Bene, quest'oggi faremo un lavoro davvero, davvero importante, dato che dobbiamo diventare dei dottori E so che non se ne ceppa di medicina, quindi è un po' pericolosa come cosa Ma Stef, non abbiamo neanche una competenza, sei sicuro di quello che stiamo andando a fare? No, però... Non voglio avere sulla coscienza la vita di qualcuno, Stef Siamo entrati in una mappa dove bisogna fare delle operazioni mediche E noi siamo i dottori, a quanto pare, quindi ci tocca arrangiarci Andiamo bene Non ci possiamo fare nulla Lo so, lo so, sono un po' preoccupato anche io Direi Allora, questa mappa dovrebbe essere una figata pazzesca L'ho guardata un pochettino, quindi dovrei riuscire ad ambientarmi abbastanza facilmente Ok E da qui si parte Perfetto Prima di andare a fare la prima operazione, però, il gioco ci consiglia Prima di tutto qua c'è un pochettino di roba, quindi ti consiglio di prenderla C'è una bella armatura in ferro, che secondo me può fare davvero comodo Dovremmo metterla al paziente, non a noi, però vabbè La storia è inutile, quindi non la leggiamo Ma prima di iniziare col primo livello ci consiglia di andare alla Surgeon Town Ha avuto poca fantasia per il nome, lo so Quindi, vieni qua, ti faccio vedere come funziona Allora, questa qui è la nostra casetta Infatti si chiama la Doctor House Qui dentro puoi mettere tutti gli achievement che troverai Ok E qui dentro puoi collezionare i tuoi oggetti In questa piccola cesta Eh, qua russo sta cosa, bellina Poi, qua puoi buttare le cose che non ti servono più Infatti spazzatura Qui abbiamo un signorino che ci vende tramite i blocchi di ossa Ci vende delle pozioni di enchant Ok Che ci danno la classica esperienza di Minecraft Ah ma c'è un botto di roba Con l'esperienza Se vieni qua Ti puoi comprare un botto di oggetti Che ti serviranno appunto per fare le varie operazioni Ok Quindi diciamo che adesso andremo a fare un'operazione base Poi ci dovremo migliorare Esatto Però praticamente all'inizio ci servono degli strumenti Che noi in questo momento non abbiamo Per procurarci i primi strumenti dobbiamo fare questo parkour Ok Ciao Steph È stato un piacere Questa mappa sembrava così bella Ma poi purtroppo si è rovinata così In... Da un momento all'altro Non è che so perché Quindi ciao Lo so Lo so Ciao Fede A domani Allora vieni qua Forza pedala Non lo voglio fare Allora Dai non è difficile Non lo so neanche fare Non è troppo difficile Non è difficile L'avrei potuto dire se non fossi caduto Come una pera Ok Eccola Meno male Questa altra era difficile Tre Sto imparando Fede Se continuo così riesco a comprare anche per te Quattro Ok Non c'è Perché non ce la posso fare Perché Sei Eh Ok basta Finita Allora Ho dieci livelli di esperienza Quindi dovrei poter acquistare sia per me che per te Quindi adesso iniziamo a fare le operazioni Lasciamo perdere Alleluia Il farm di esperienza col parkour Qui No Non ero preparata psicologicamente Il gioco se tu premi ti ci dice Compra uno scalpello e un piccone di legna Ok Ok Che costano due di esperienza e due di esperienza Quindi faccio Ta 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 Mi devi un polmone Ferre te lo dico Ok Te lo prenderò dal paziente Contando questa mappa sono serio Ok Uno Due E questi sono gli strumenti Dopodiché fai qua back to the game Ok Ci sono Quindi possiamo iniziare The game Ok E si inizia con la prima operazione Allora sei sopra il paziente cara Ah Se vedi questo qua è il suo bel facione Guarda che carino Salve No tranquillo Noi siamo molto esperti Guarda sei proprio in ottime mai Esatto Noi facciamo tutto molto bene Allora E qui L'avevo perché questo livello l'ho già controllato C'è l'achievement Dove? Ed è welcome surgeon Qua dove sono io L'ho preso Era un fiorellino semplicemente Ce l'ho io in mano Tranquilla Tanto la casa è la stessa La condividiamo No Sì mi dispiace Dopodiché Allora se tu vieni qua C'è la cesta Che ci spiega Qual è il problema del paziente Quindi adesso te lo farò leggere Oh no Questo signore Ha qualcosa che non va con il suo cuore Ok Devi riuscire a prendere il suo cuore E a metterlo nella scatola La scatola Nello specifico fare È questa Ma perché gli dobbiamo estrarre il cuore? È un trapianto di cuore Ah Perché il suo cuore è malato Si inizia a leggeri insomma Esatto Allora Il cuore sta chiaramente alla sinistra Ma se lui è cuoricato Dovrebbe stare da questa parte Sì però Ti ricordi che Il tipo che c'era Per fare gli scambi Voleva appunto I blocchi di ossa Quindi Noi Possiamo guadagnare No 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 Io mi rifiuto categoricamente Quella è la sua spina dorsale Lo so Non gli serve Non gli serve Ci serve di più a noi l'esperienza Facciamo che è finto Ok E qui c'è il suo cuoricino Adesso lo devi rompere col piccone Vai fai pure Ok Esattamente È diverso Quindi per forza Esatto Adesso lo devi andare a piazzare Ovviamente il primo livello è molto facile Qui dentro Ok Quindi lo piazzi E il primo livello è fatto Però Ma così Siamo all'inizio Facile Facile E ci ha dato Come puoi vedere 3D esperienza A testa Adesso aspettiamo Ci teletrasporta E ci porta lì Per fare il livello 2 Che si chiama Dine Knight Quindi un cavaliere Che sta morendo Ha una spada trafitta Sembrava l'altro Invece sono diversi Che bello Guarda che l'elmo Bello Bellissimo Ok Non dovremmo essere felici Di vedere un paziente Vieni Stef Ho trovato una cosa bellissima Che cosa hai trovato Guarda Proteggi il tuo castello Qua c'è un minigame Lo proviamo Dai Lo operiamo dopo Oh cavolo Stef Oh cavolo Forse avremmo dovuto Avere una spada almeno Io il piccone Anche io Moriamo Vero Lasciali fuori Che prendono fuoco Vieni vieni Venite qua Venite qua Non è stata un'ottima idea Stendire almeno uno Ok uno è morto Vabbè dopo 5 anni Ok Poi prenderanno così tanto danno Perché l'ho ascoltata raga Cioè siamo dei dottori Qui c'è un minigame per te In una mappa per dottori Questa qua riesce a trovare il modo Ho il piccolo Ma ci abbiamo fatta Penso che lo puoi rifare all'infinito Giusto per passarci il tempo Si ma ci ha dato qualcosa Boh No No non credo Allora dove è l'achievement Sta cercando di cambiare discorso La signorita Dove è l'achievement Non ho idea Però io leggo che cosa dobbiamo fare Ok vai Allora Oppure una medicina Una mela E livello 2 Quindi leggiamo livello 2 Veloce Il leggendario cavaliere sta morendo Salva la sua vita Prendi la medicina E il blocco di medicina Dalla chest Ok E blocca il suo sanguinamento Ahà Quindi la sua emorragia Ok lo dobbiamo scavare stavolta Ok No Dove sarà la sua emorragia? Fere? Qua nel collo Questo è il collo C'è sangue Ok E dove la dovrei mettere Per bloccare l'emorragia? Allora fammi capire Ma c'è del tempo? Cos'è questo tipo? Non lo so Anche a me sta mettendo ansia Allora sì Il sangue sta chiaramente Cadendo da qui Non lo so Nella bocca forse Ma non ha senso Questa è la sua bocca L'emorragia Sarà dove c'è la spada Fere però E allora Qui Qui Affianco alla spada Ma c'è sangue? Eh non lo so Proviamo a rompere qualche costo E vedere dove arriva la spada No? Ok Ci sta Ok Vedi? Ah ecco sì Forse dobbiamo metterla qua Bellina sta roba Cioè hai visto che stava sanguinando davvero? Sì 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 Bello Se fossero finiti tutti questi Così come si chiamano I Ah lo chiamano sangue In questo caso Fosse finito dal dispenser Tutto il sangue Lui sarebbe morto Quindi abbiamo salvato in tempo La vita del cavaliere leggendario Ok Allora Il mio piccone si è quasi rotto Quindi ho bisogno di tornare un attimo in città E volevo anche mettere nel quadro Il fiorilino Dato che abbiamo completato il primo achievement Il secondo achievement Comunque secondo me era riuscire a difendere Capisci? E noi non ci abbiamo fatta Sì Perché siamo scarsi Ferre stai per andare a fare il parkour davvero? Ecco è caduta Lo devo fare perché mi serve esperienza qui Capito? Ma ne hai sei? No me ne serve di più Te ne serve di più Perché cosa? Per comprare cose belle Ok Allora io che sono stato un po' uno sciacallo Dovrei avere sufficienti bone block Per prendere una bottle of enchanting Ferre se vieni vicino a me Ce l'ho quasi fatta E che vuoi? Mi hai distratto Cosa vuoi? Certo sicuramente A voi Ferma Te ne ho dato? No No? No zero Anzi un pochino Forse ero 6 tonno Non lo so Ma così poco paga? Eh un po' Che schifezza Aspetta che butto il sangue Che sinceramente non mi voglio tenere nell'inventario a vita Devo essere sincero Quindi lo buttiamo qua E io credo che possiamo ripartire Che dici? Sì Andiamo? Allora Back to the game Niente Mi dispiace Dispiace Robot system Non avrò mai un No 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 Sei un robot Che bellino Teoricamente c'è la redstone Oh qui c'è l'achievement Eccolo qua L'hai preso? Sì Ok Eh Fere teoricamente è con la redstone sta roba secondo me Dici? Sì io non so nulla di redstone Non anch'io Ma non diciamolo al paziente Ok vai Dai Siamo preparati Forza Livello 3 Allora guarda questo sistema Sembra come Windows 8 È un insulto capito? Adesso è un disastro Quindi questo sistema è rotto Ma noi lo possiamo sistemare Trova la giusta combinazione con i pistoni e le pressure plate No Ma stai attento Tu puoi completamente distruggerlo Puoi totalmente distruggere qualcosa E se davvero Distruggere il suo sistema Se davvero fallisci malamente Va in Game of 1 Addirittura ci dice La serie Se sei così scarso Allora ci dà qualcosa? Fere Che cavolo sei Non sono stata io eh Eh no Ci sono le pressure plate Sei tu Sei tu Sono i pulsanti Robot system No comunque non ho oggetti Che prima me li chiesto e non ti ho risposto È perché magari Allora questi no Non li posso muovere Allora Questo si dovrebbe poter muovere No non possiamo fare nulla Esatto Questi tecnicamente anche io li stavo toccando È di solito li puoi far cambiare la posizione Esatto Per fare il circuito diverso Ma non capisco Allora Aspetta Io sono terribile in queste cose Continuerò a dirlo all'infinito Raga perché Se c'è una cosa che nella vita Non ho mai capito Cosa abbiamo fatto di preciso? Va bene Hai toccato qualcosa? No Credo che l'hai fatto tua Sto' andando da una partella Sì A casa? Sì sì A casa Epic clown Andiamo avanti No che bellino Bellino Ciao clown Però non è tanto felice se sta schiatà Allora leggiamo un pochettino Tu vedi se trovi l'achievement O se c'è qualcosa di interessante Se c'è qualcosa tipo un evento Non avviarlo Allora Ho il suo cuore Si suona male Livello 4 Vediamo un pochettino Cosa gli è successo Allora Non mi piace il clown Ma è un nostro paziente Ha bisogno di aiuto E noi siamo i suoi eroi Quindi fallo e basta Ok Lui non ha il suo cuore Quindi prendi il cuore dalla chest E trova il punto giusto Dove mettere il suo nuovo cuore Ok Perfetto Ok Se ci serve un piccone migliore Aspetta che forse ho trovato Forse è qua No Ho avversato Ci siamo incastrati Aspetta Deve andare un altro Un altro Evidentemente il cuore è messo nel punto giusto Vedi aziona tutto questo circuito Quindi si Ecco È lì? Stefe No no Stai rompendo il circuito Stai facendo un disastro Il circuito lo devi lasciar stare Rimetti la red Fatto Fede corri via Corri via No Non riesco a uscire Mi hai incastrato Grazie Stefe Sei molto molto gentile Ti ho detto di non toccare le cose Il livello l'ho finito eh Non mi interessa di quello che hai finito Stefe Ho finito il livello È fatto No non ti parlo più È fatto Era giusto Era il punto giusto Dove mettere il suo nuovo cuore Sì ma io ti ho detto all'inizio Aspetta fammi uscire Poi lo mettiamo Tu l'hai messo e mi hai fatto esplodere Comunque non è normale che questa avesse la teniti dentro Allora Mi ha scritto anche che dovrei tornare da te Ma sicuramente non sto tornando Quindi mi teleporto Ok Ciao cara Allora Mettiamo tutti gli achievement nella nostra casetta Perché il prossimo io non me la sento di farlo Quindi vai metti tutti gli achievement Allora Nei due giusto Probabilmente ne abbiamo saltato uno però C'è questo Beh perché non abbiamo potuto affrontare C'è questo Difendere il nostro castello Boom Doveva essere un indizio per te caramia Perché non l'ho letto Cavolo Quindi è colpa di fare 12 livelli di esperienza Quindi qua volendo potremmo fare un sacco di shopping Però io per ora eviterei Anzi sai cosa faccio? Io mi compro il piccone e di ferro Pure io Perché comunque è già capitato che ci fosse bisogno E quindi sinceramente secondo me conviene stare così Allora tutta questa roba non ci serve più Ok Allora ragazzi fermiamo così Perché il prossimo è Erobrine E non me la sento Quindi Se sbagli sei morto Se sbagli sei morto Qua sotto comprate un altro video Fateci sapere se vi è piaciuta questa mappa Lasciate tanti likes È valutabile continuarla Dipende da quanto vi piace Se vi piace molto Noi lo continuiamo volentieri Perché è stata divertente Davvero simpatica Mi piaciuta molto Iscrivetevi al canale Cliccate in cappellina se non avete fatto E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao